ciao a tutti ragazzi bentornati in live milan salernitana avevo promesso ragazzi che avrei fatta oggi ragazzi è quella classica partita dove tu non hai scuse dove è vero che ogni partita se moji proprio non devi fare sconti a nessuno sono quelle partite che se fai un passo falso e noi con le promosse ragazzi abbiamo una lunga storia c'è una buona bocca scusate se tu fai un passo falso oltre a essere preso per il culo a fine stagione sono punti che dice eh di aversi fatti abbiamo già qualche impianto in questo campionato vogliamo ragazzi di tenere la presa sulle spalle e di fare una buona gara dai ora Alessio Alessio capitano tu a parte Ibra sei sempre stato il mio giocatore preferito da quando sei arrivato poi vabbè non è che prima ti arrivassi Ibra avessi tanta concorrenza sul giocatore preferito che avrei potuto avere non fare cagate ragazzi però se mi riberi davanti secondo me sono molto più funzionali dei due attaccanti che aveva il Genoa poi ragazzi le partite ripeto sono a sé e vanno giocate eccolo si inizia ragazzi torna Leao dopo l'assenza di Marassi e dopo la partita se posso permettermi di dire piuttosto giocata di merda ok contro il sassuolo con questa titolarità di Pelleghi ragazzi veramente all'opportunità più ghiotta per poter fare qualcosa oh Tomori Mignan che cazzo è c'è centrocampo Mike bello Leao bella l'accelerazione dai 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 sul fondo dentro che siiii franchino franchino 1 a 0 assist di Leao grande franchino gol di franchino che mi stai sul cazzo però finchè andossi la nostra maglia come c'è un ogro di merda l'anno scorso finchè andossi la nostra maglia io è giusto che ti debba difendere vabbè il gol è abbastanza vergognoso se devo essere sincero però qua ragazzi qui c'altro va premiato Leao perché ha fatto una giocata veramente incredibile cioè è partito camminando ha salato due uomini andato sul fondo la messa in mezzo e poi comunque bravissimo col tempismo che si è per carità di dio comunque sia ragazzi ricordiamoci che la serenitana è ultima è un avversario abbastanza modesto eh non voglio dire scarso perché sarebbe totalmente rispettoso verso i loro confronti però comunque posso permettermi di dire che è un avversario si modesto ragazzi Leao per Ternandez entra in area bravissimo il difensore della serenitana ragazzi bravissimo va Ternandez dentro verso per Leilin non la coglie ragazzi cioè ora io capisco tutto però cioè ora seriamente allora la serenitana diciamo che ho visto giocare meglio a calcio mettiamola così però gioca molto meglio del Genoa gioca assai molto meglio del Genoa mamma mia Ternandez dalla Braim Diaz non far cagate va bella da Leao eh vabbè è un cazzo perché gli era troppo indietro c'è la Braim Diaz che stava partendo che si Leao è zappa Braim Diaz oh ma come fallo di Pellegri ora ok tutto quanto che è un giocatore diventamente forte però su Bogdan ragazzi ma qua Bogdan è scivolato da solo non è fallo mai questo è fatto male Pellegri ma Caio Corba benissimo parla intelligentemente c'è Braim Diaz in mezzo se sei intelligente lo servi e lo serve mamma mia c'è andato proprio c'è andato più che vicino che pala ha cadato va Caio Corba cioè che intelligenza proprio a tagliare Leao lungo bellissimo per Pellegri campo aperto Pellegri non ti chiedo niente è giusto passarla bravo Salemakers 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 destro vabbè non dico comandata a finire perché vi lascio immaginare un tiro di Salemakers dove possa finire però vabbè Pellegri a terra ragazzi tre attaccanti su quattro rotti no Leao che palla che ha perso però e va anche a far fallo non va bene 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 Leao bella intuizione per Diaz non so perché ci sia Ternandes punta comunque c'è Salemakers Salemakers cioè Ternandes Salemakers sinistro che gran gol di Salemakers 2 a 0 2 a 0 ragazzi no ha fatto cioè io mi sa su coglioni ma ha fatto veramente un gran gol lo insulto a paria dopo partita però gli hanno lasciato la prateria davanti perché non l'hanno attaccato non l'hanno affrontato nel niente e adesso va a prendere la maglia di Kier giustamente va a mostrare al pubblico gli hanno lasciato tantissimo spazio si sposa la palla sul sinistro la ficca nell'angolino 2 a 0 ragazzi partita ripeto agevolissima agevolissima bene dai Diaz bella per Leao Leao no ha toccato troppo ha fatto un tocco troppo ragazzi Leao troppo l'istante dal pallone era tipo solo davanti il portiere errori basilari eh Florenzi corto era uno schema e Bram Diaz l'ha rovinato cartino giallo per Bacca come sei un coglione cioè potevi tranquillamente evitare partita tranquillissima vai a farti ammonire così Bram Diaz Ternanet tiro alle stelle uè fallino lo ammonisci lo ammonisci lo ammonisci eh fra eh fra non ci sono seghe lo ammonisci grande culipa lì palla in curva da 40 metri grande vabbè ragazzi sinceramente stiamo giocando a palla c'è a palla non c'è leao dentro per Bram Diaz Bram Diaz palla lì per leao eh non ci sono intesi ma ragazzi ripeto stiamo giocando a palla c'è a palla non c'è stiamo facendo le nostre azioni creiamo senza sforzare e questo mi sta piacendo veramente tanto l'unico giocatore che per ora me la sento di guacciare è Ternanet del resto tutti fanno loro quindi tranquilli che sì bello può tirare a larga per Krunic Krunic che parata del portiere ragazzi a botta sicura Krunic vabbè un pochino centralotta però veramente forte leao leao siamo al vertice dell'area bella la palla di Mignan rimane lì che sì al volo ragazzi dalla prospettiva sembrava gol ragazzi Mignan con i piedi c'è te lo fa diventare iperduro vabbè finisce il primo tempo ragazzi c'è si gioca una porta sola praticamente quindi tranquilli secondo tempo entrerà Junior Messias ragazzi tre gol in tre partite ci ha fatto sborare e quindi giusto che giochi entra Ben Nasser per Bakayoko ci sta anche perché era già munito e Messias per leao si Messias ha dovuto controllare Messias 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 non stiamo forzando quindi tranquilli ragazzi proprio di un centimetro la liciata che sì già la seconda volta che va vicino avvicinissimo al gol della doppietta terna messi lungo per Selle Makers che va a fare fallo in attacco stupido fallo stupido fallo ragazzi stupido fallo entra Balloturet mamma mia no ragazzi ero così contento di non averlo più rivisto è che mi dà fastidio vederlo Balloturet che sei dentro per Balloturet 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 bravo dalla via cominci dentro per Brian Diaz che la liscia ragazzi altra palla gol e la palla oltretutto era veloce ancora Milan che la riconquistano Fai dentro Messias che parata ha fatto Belez raga mamma mia la sera dentro per Brian Diaz mamma mia Belez che migliore in campo per la salernitana per distacco ragazzi è un po' abbandonato a se stesso poveraccio va detto torna lì perché sì come il campo ci sta dai messias messias sinistro potentissimo Belez oh balla aperta Salema Kerz dentro Diaz 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 no vabbè questo gol è sbagliato è ridicolo cioè spiazza pure il portero la mette fuori no vabbè ragazzi ma stiamo scherzando ora capisco la partita è vinta però c'è pota vota si incazza Pioli ma anche giustamente Salema Kerz lato corto Tonali da casa sua fuori è frustrante dopo un po' Casano dentro no no sinistro ma rifacciamo anche fare delle azioni a sti qua mamma mia ben a ser dentro Florenzi che culo c'è la difesa della sernitana scivolesti trova la palla tra le mani Belek no Mignan che la sporcata Beresinski fuori di nulla raga cioè tra un po' facciamo far gol alla sernitana a tempo scaduto che poi vabbè è scarso lui ma se la serve a quella accanto va a botta sicura fangol fangol non lo fanno non lo fanno perché la blocca Mignan finisce qua ragazzi 2 a 0 la prossima sarà Milan Liverpool grazie della visione lasciate il like al video iscrivetevi al canale e ci si vede alla prossima la via action ragazzi grazie